Coniugare geologia e sviluppo economico, una scommessa da affrontare tra tante incognite, tra le quali quella della mancanza di risorse. È l'obiettivo che l'ordine regionale dei geologi, presieduto dal gelese Giuseppe Collura, si è previssato nell'ambito dell'iniziativa che si svolge a Butera dal titolo Borghi e Pesaggi di Seste e Valorizzazione, il geosito di Monte San Nicola. Il nostro obiettivo attraverso questo protocollo di collaborazione è quello di coniugare la necessità di messa in sicurezza il territorio a rischio idrogeologico con la valorizzazione dei beni paesaggistici. Il geosito di Monte San Nicola ha anche le spiagge rispetto a fenomeni di arretramento di dissesto molto grafico. Noi ci troviamo in una situazione che l'errazione marittima che accende la nostra costa non viene affrontata dalla regione come un momento di ripresa e ripascimento delle nostre spiagge e della nostra costa, che purtroppo ha danneggiato fortemente il nostro litorale e che se consideriamo che gli insediamenti turistici che ci sono nel nostro territorio sono importanti, di grande attrazione e quindi sono molto presenti una quantità di persone, circa 120.000 presenze l'anno, purtroppo ancora noi dobbiamo inseguire la regione che non riesce a fare nessun tipo di intervento a recupero della nostra spiaggia. Il sindaco di Butera Luigi Casisi. A ottobre noi faremo una giornata, nella giornata mondiale del mondo geologico, faremo una giornata dove andremo a posizionare la targa in quel sito per farlo riconoscere soprattutto alle scuole, convergendo tutte le scuole del territorio. Questo riconoscimento soprattutto ci permetterà non solo di essere dichiarato come patrimonio dell'UNESCO, geografic, geologici, ma soprattutto ci permetterà di far conoscere gli interi territori attraverso anche una rete di comuni, far conoscere il patrimonio artistico e culturale del nostro comprensorio. Le georisorse devono diventare un volano di sviluppo, lo dice il vice sindaco di Butera. Culturalmente il nostro territorio ha acquisito un'importanza ancora maggiore perché il geosito consideri che fra i primi tre a livello internazionale per importanza abbiamo reperti archeologici, abbiamo ricchezze enogastronomiche e come puoi immaginare una cultura a 360 gradi che speriamo di poter diffondere e poter promuovere il nostro territorio a 360 gradi e farlo conoscere al resto del mondo. Questa mattina si è tenuta una escursione guidata a Monte San Nicola e al Borgo Pozzillo.